La prima cosa che lui ha dato, la prima cosa che lui ha dato, quindi l'energia sta entrando dentro di voi e noi ci auguriamo che entri proprio dal momento giusto che darà il via a questa edizione 2016 dei grandi volumi, che abbiamo già dato da te. Amico mio, stai attento a questo sacco dell'amornezza perché l'ultima volta che l'ho messo io mi hanno portato via come rifiuto speciale, quindi stai attento a questo sacco, questo è l'ultimo modello di Armani, l'ultimo vestito di Armani, Armani inverno in 2016. E' un'ultima cosa che è successiva. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.